e adesso invece in apertura vogliamo parlare di un paese bellissimo il Messico e ci colleghiamo con la capitale città del Messico dove è collegato proprio dall'ambasciata l'ambasciatore italiano Luigi De Chiara. Benvenuto all'Italia con voi ambasciatore. Molte grazie e buongiorno Monica un saluto cordiale a tutti i telespettatori. Allora finalmente parliamo di un paese meraviglioso qual è il Messico un paese grande tra l'altro sei volte l'Italia e dalla storia antichissima è diventato negli anni insomma meta esotica per vacanze da sogno però io so che purtroppo non ci sono mai venuta quindi spero di venire presto a trovarvi a anche dei luoghi poco noti ma incredibilmente belli ecco quali altri aspetti del Messico ambasciatore meriterebbero di essere conosciuti dai più da più turisti ma in realtà il Messico già solo dal punto di vista turistico è relativamente poco conosciuto in Italia e in Europa perché come dire le visite turistiche si concentrano prevalentemente sulla sulla costa caraibica la famosa riviera Maya e su qualche sito archeologico del sud del paese in realtà il Messico è un paese molto simile all'Italia per quanto riguarda la differenziazione culturale anche dal punto di vista naturale presenta aree naturalistiche molto molto diverse fra di loro tutta la parte centrale del paese è estremamente interessante dal punto di vista storico e artistico il nord con i deserti la Baja California con le spiagge sul Pacifico è la stessa città del Messico è una città estremamente vibrante che offre notevolissimi spunti di interesse dal punto di vista gastronomico dal punto di vista artistico dal punto di vista storico questa scarsa conoscenza diciamo del Messico at large è un po' un impedimento rispetto al potenziale di relazioni che abbiamo con l'Italia direi anche forse con il resto dell'Europa con eccezione fatta per la Spagna Messico forse non colpisce l'interesse degli italiani perché fra i paesi della costa atlantica di tutto il continente americano dal Canada fino all'Argentina è quello che ha ricevuto storicamente il minor flusso di informazioni e quindi diciamo che nel nostro codice genetico degli ultimi 150 anni non siamo abituati a interessarci di un paese che però è molto importante anche dal punto di vista economico Sì, a proposito di questo ambasciatore, oltre al turismo quale opportunità di lavoro si potrebbero trovare venendo in Messico? Guardi, il Messico geograficamente appartiene al Nord America ha una economia straordinariamente integrata con quella degli Stati Uniti e del Canada Peraltro dal punto di vista degli scambi commerciali dopo l'esperienza che abbiamo fatto con il Covid di catene di valore è troppo lunga anche il concetto di competizione strategica fra Cina e gli Stati Uniti fa prevedere che si formi sempre di più una fortezza produttiva nord americana dove il Messico praticamente diventa la porta di accesso a tutto il mercato nord americano Le aziende italiane che hanno deciso di fare investimenti produttivi in Messico lavorano non solo con un importante mercato interno ricordiamo che è un paese di 130 milioni di abitanti, età media 27 anni quindi un mercato interno sicuramente in crescita ma soprattutto il Messico diventa la porta di accesso privilegiata per i mercati del Nord America un anno e mezzo fa è entrato in vigore il nuovo accordo NAFTA per cui esportare dal Messico agli Stati Uniti o al Canada prevede dei dazi praticamente pari a zero l'esperienza che hanno fatto le imprese italiane anche dopo due anni così negativi come sono stati quelli dell'emergenza sanitaria tutte le aziende italiane tranne quelle nel settore turistico della ristorazione per molti motivi hanno comunque registrato dei bilanci fortemente positivi in virtù di una economia regionale trainata dalla crescita della domanda degli Stati Uniti e sono profitti che poi servono anche a mantenere bilanci in ordine e posti di lavoro in Italia ecco ma quindi sempre a proposito di questo degli italiani che vivono là ci può dire quanti sono gli italiani presenti in questo momento in Messico quante le aziende italiane di cosa si occupano principalmente? guardi qui abbiamo una situazione abbastanza aggregata i numeri dell'emigrazione e della presenza italiana in Messico sono abbastanza contenuti noi abbiamo circa 25.000 connazionali registrati all'aeree e calcoliamo che ce ne siano almeno altre tanti che gravitano sul Messico anche senza spostare la residenza dall'Italia per quel che riguarda la presenza economica abbiamo grandi imprese in vari settori nel settore energetico ci sono importanti investimenti sia di Eni nel campo dei combustibili fossili con ingescimenti nel Golfo del Messico che di Enel Green Power perché il Messico è anche un paradiso per quel che riguarda la disponibilità di vento e di sole nel settore automobilistico abbiamo un importantissimo investimento di Pirelli che probabilmente nel corso dell'anno vedrà un annuncio molto molto importante sempre nel settore automobilistico sono tutte esperienze molto positive direi ancora pioneristiche dal punto di vista delle opportunità esistenti in un paese dove ad esempio dal punto di vista delle esportazioni noi abbiamo in valore degli indicatori che sono del tutto simili a quelli che registriamo in paesi dove quotidianamente si parla di più in Italia come il Brasile, come il Canada, come l'India, la Corea del Sud, in Asia quindi grandi prospettive di un paese che è ancora molto giovane ha una serie di caratteristiche strutturali dalla posizione geografica fino alla disponibilità in mano d'opera fino all'esistenza di una struttura accademico-universitaria di tutto rilievo che produce ogni anno 200-250 mila ingegneri un mercato senz'altro interessante al quale probabilmente ci conviene dedicare maggiore attenzione Ecco, l'Imbasciatore prima parlava dei pochi dazi rispetto al commercio ricordiamo anche che il Messico è uno dei pochi paesi che ha deciso di non imporre misure restrittive durante la pandemia ecco, tutto questo ha fatto sì che la cultura e il made in Italy non si sono mai fermati com'è adesso la situazione? La situazione in questo momento è paragonabile a quella prevalente in Europa e nel Nord America continuiamo ad avere un numero di contagi piuttosto sostenuti anche se non siamo ai drammi dal punto di vista dei ricoveri e dei decessi di un anno, un anno e mezzo fa il Messico proprio in virtù dell'apertura della sua economia tra l'altro è un paese in cui il comparto turistico è molto molto importante sul prodotto interno lordo ha scelto di non chiudere mai aeroporti o possibilità di accesso al paese dal punto di vista dell'attività dell'ambasciata, dell'istituto di cultura delle altre strutture che formano il sistema Italia in Messico come la Camera di Commercio, come l'istituto per il commercio estero noi abbiamo deciso di, come dire, innovare la nostra attività fomentando la possibilità di organizzare riunioni virtuali devo dire che è stato molto apprezzato soprattutto dal punto di vista culturale abbiamo lanciato lo slogan che la cultura italiana non si ferma abbiamo avuto un programma intensissimo che senza soluzioni di continuità ha continuato a proporre attività peraltro estremamente interessanti in un paese come il Messico che è molto attivo culturalmente e artisticamente e che ha grande stima e grande simpatia di tutto ciò che si produce in Italia Ambasciatore, io la ringrazio molto per questa sua testimonianza per questo collegamento grazie a Luigi De Chiara buon lavoro e a presto Saluto io che ti ringrazio e alla prossima occasione Senz'altro, Ambasciatore, grazie